Ragazzi siamo fine settimana, di nuovo nel fine settimana, io direi di andare a fare un bel recap di quello che è stato la settimana di Bitcoin, ma proprio il trend che stiamo in realtà vivendo adesso. Primissima cosa, partiamo dalle origini, partiamo dalle basi, partiamo dall'ultimo impulso, siamo su Grafico Daily. Guardate, primissimi impulsi, scusate, nelle giornate di novembre dove abbiamo avuto questo forte impulso fino a venerdì 17 febbraio circa, abbiamo ritracciato in questa zona qui, che in realtà va a corrispondere con il 50% del ritracciamento, dove è il secondo impulso? Il secondo impulso ce l'abbiamo avuto appunto dalle prime giornate di marzo fino alla metà di aprile, questo è il secondo impulso. Di questo secondo impulso adesso che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere questo ritracciamento. Dov'è che siamo ora? Siamo nella zona del 50%, va bene? Guardate, adesso provo, provo, provo a sottolinearlo, eccola qui, vedete? Siamo nella zona del 50%, abbiamo preso questa liquidità e ieri, nella giornata di ieri, abbiamo visto un bel rimbalzo in questa zona. Questo rimbalzo, andiamo a vedere proprio questo impulso da vicino, questo rimbalzo potrà portare un nuovo impulso di Bitcoin? Allora, in realtà sì, in realtà sì. Io invece vorrei analizzarlo meglio perché sarebbe la seconda volta che va a ritracciare al 50%. Questa cosa a me non è che entusiasmi moltissimo, quindi io direi che prima di un ritracciamento importante, secondo me potremmo tornare nella zona del 75-80%, quindi zona 22.000, prendiamo zona 22.000 per buona, ok? O addirittura scendere più in basso a chiusura di questo gap. Dico questo perché? Perché secondo me questa non è una fase dove abbiamo un trend, un bull market, non la vedo così io. Perché secondo me di problemi nel panorama generale al di fuori di Bitcoin, ci sono dei problemi più grandi da affrontare, più che spostare diciamo la liquidità in asset come quelli di Bitcoin. Questi ovviamente sono i miei punti di vista. Se noi andiamo sul grafico 4 ore, voglio spiegarvi proprio l'impulso che ho intenzione di vedere insieme a voi. Abbiamo questa trendline, vedete questa trendline blu che sto guardando adesso, che sto guardando ora. Come vedete abbiamo evidenziato i punti dove è stato toccato, no? Allora io voglio andare a misurare questo. Guardate, dalle prese di liquidità quanto abbiamo fatto? Allora, il primo short ha fatto il 12%, quasi 13%. Dall'ultima presa di liquidità lo short fa il meno 14, 13,93. Terza presa di liquidità, a questo punto, ecco la presa di liquidità, terzo punto, andiamo a fare, se lo andiamo a contare qui perché in realtà è questo, per il momento poi se ritraccerà ancora più in basso, potrebbe essere ancora più in basso, comunque andiamo sempre sul 14%. Ogni volta che ha preso liquidità su questa trendline abbiamo fatto un meno 14%. Facciamo il contrario invece, ogni volta che siamo andati a sbilanciare la liquidità per quanto riguarda il long, abbiamo avuto un più 10%, abbiamo avuto un... No, scusate, se lo prendiamo da qui, che è l'ultimo impulso, sarebbe questo, 9%. Abbiamo preso questo, 8%, quello di ieri abbiamo fatto un 7%. Quindi siamo partiti 10, 9, 8, 7. Cioè vedete che gli impulsi ogni volta che andiamo a prendere la liquidità sono minori, quindi hanno minore forza. Questo per me è segno di debolezza da parte dei long. Quando io vi ho detto, andiamo a provare un'operazione sul 15 minuti al 75% del ritracciamento, che poi invece vi ho scritto su Telegram, chiudiamola perché non è questo... Avevo visto, e vi spiego anche, questo pattern qui, ok? Avevo visto questo pattern, adesso lo faccio più grande. Questo pattern qui che a me non piaceva assolutamente. Io vi ho detto, stavamo in realtà qui, ok? Riguardati post su Telegram, io non invento niente, non dico bugie, insomma. Abbiamo avuto questo impulso forte al ribasso e quindi siamo riusciti ad evitarlo senza beccare stop loss e nulla di più. Ora che cosa vi dico? Guardate dove siamo ora. Abbiamo preso liquidità, abbiamo sbilanciato questo massimo. Potrebbe essere uno sbilanciamento? Non lo so. Se lo diventerà da una semplice linea che è in sostanza adesso, andremo a cambiare il modello con sbilanciamento. Per il momento no, perché ancora non è stato fatto. Quindi vediamo, deve ritracciare prima. Dico questo perché? Perché avevo segnato anche delle zone ipotetiche, long, come vedi, scusate, dove gli short potevano intensificarsi. Ovvero, se noi andiamo a rompere questa trend line, dove io ho scritto zona di allerta, no? Più o meno andiamo a rompere i 27,500, 27,300. Io mi sono segnato la parte superiore del canale che potrebbe essere presa in considerazione per scendere. Di conseguenza, cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere un movimento del genere, rottura, accelerazione, perché qui alla rottura dei trend line potrebbero entrare capitali. Ma avere questa forte trend line al ribasso di questo canale parallelo che potrebbe rifar scendere il prezzo in questa maniera. Potremmo toccare i 28,5? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ma non vedo continuazione da dove siamo ora. Cosa vuol dire? I trade che dovete fare io li eviterei, perché trade che è andato long in queste zone probabilmente ha usato delle leve altissime, cosa che non è nella mia operatività. No, questo non vuol dire che chi usa le leve non guadagna. Secondo me non guadagna, cioè usare delle leve sopra il 10, quindi leve 50, 200, portano un profitto nell'immediato, ma a lungo termine secondo me è un'operatività insostenibile. Poi parlo per il mio parere personale, quindi potrei essere io ad o non essere capace di fare un trade, di gestire i trade in questa maniera. I miei livelli di attenzione sono intorno ai 24.500 a scendere fino ai 20.000. E voi mi dite sì, ma sono 4.000 euro di range. Sì, grazie. Se facessi il mago non esisterebbero nemmeno tutte queste analisi che uno va a fare il giorno. Quindi, secondo me, posizioniamoci quando il mercato ci darà un'opportunità più concreta. Al momento io non la vedo questa opportunità concreta di andare long, anche perché se dovessi andare long su un 3% dovrei comunque probabilmente o avere un capitale imbarazzante oppure andare in leva e non è il mio modo di operare. Io voglio aspettare dal target 2, target 3. Questa è una zona che io terrò monitorata insieme alle notizie macro che ci circondano, perché come avete visto i mercati sono molto tirati, gli indici sono molto tirati. Mi aspetto ritracciamento anche lì, me lo aspetto da tanto. Poi in realtà sono due mesi che lateralizziamo in un range di 2.000 dollari, quindi io direi di attendere. Non ho fretta, non ho questa esigenza sfrenata di entrare al mercato. Di conseguenza io vi porto le mie di analisi. Poi è ovvio, ognuno ha le sue, ognuno ha la sua strategia e è a posto. Io le ultime due volte che abbiamo evitato in realtà un'operazione long, il mercato qualche ora dopo, barra qualche giorno dopo, ha fatto rispettivamente un meno 6 e qualcosa, mi ricordo, eravamo qui, meno 7 sì, e un meno un bel meno 6 e mezzo l'ultima volta che era questo. No, 5 scusate, un bel meno 5%. Li abbiamo evitati tutte e due. Di conseguenza io sono contento perché anche che avessi avuto, avessi preso, scusate, uno o due stop per andare long, per forzare un movimento, non sarebbe successo niente, perché se la mia strategia alla fine lo prevede, va bene, ma io non avevo più quel vantaggio che avevo analizzato, che avevo studiato, cioè non avevo più quel long che avevo ipotizzato. Avevo il sentore che potesse succedere qualcosa, alla fine non me la sono sentito entrare long e ho fatto bene. Detto questo, io direi di continuare, ma in realtà le cose da dire sono ben poche, perché io prima di vedere un long duraturo vorrei innanzitutto vedere questa trendline riga blu rotta a rialzo con volumi. Se io non vedo questa trendline rotta a rialzo con volumi, io non entrerò ancora long, non entrerò long. Le posizioni invece che aspetto vengano tra virgolette fillate dal mercato, le mie posizioni che metterò dai 24 e qualcosa fino a 20, 21, qui addirittura 22, qui potrebbero essere delle buone zone per un accumulo, va bene? Quindi il mio pack, tra virgolette così capite, lo inizierei a target 2, a scendere. Ok? Allora, abbiamo passati dieci minuti, se dovete fare qualche domanda sotto fatela tranquillamente, iscrivetevi perché se siete arrivati fino a qui e non è la prima volta, secondo me è giusto, tra virgolette, premiare le analisi che faccio con tanta costanza e credetemi trovare del tempo non è mai semplice. Quindi vi ringrazio se vorrete sostenere il canale con questo piccolo gesto che a voi in realtà non è che costi nulla, ma che a me fa capire che questi contenuti vi piacciono. Vi auguro un buon fine settimana e noi ci rivediamo lunedì, a meno che nella giornata di oggi pomeriggio barra domani non succeda qualcosa nei mercati. Va bene? Vi ringrazio, ciao ragazzi!